Gli aretini sicuramente trovano in questo primo fine settimana birra, legumi, farine, olio, vino, avranno anche la possibilità di assaggiare polenta perché realizzeremo direttamente in piazza la polenta con l'olio nuovo e faremo quindi anche dei momenti di degustazione. Anche quest'anno il Natale è a chilometro zero con Campagna Mica, esposizione e degustazione delle eccellenze agricole del territorio dal prossimo weekend in Piazza Grande, un mercato straordinario di Campagna Mica organizzato da Coldiretti Aghezzo insieme alla Fraternita dei Laici. Per anni, direi quasi per secoli, la campagna ha incontrato la città nella Piazza Grande, la campagna portava i prodotti agricoli e i cittadini compravano questi prodotti agricoli. Poi nel tempo abbiamo perso questa tradizione che va ripresa. Questo è il primo passo verso una riproposizione della piazza, luogo di incontro tra i cittadini, ma luogo anche di incontro tra la campagna, tra chi lavora in campagna e la città che consuma i prodotti locali. Possiamo dire che dall'otto a mattina avremo per intanto questo fine settimana, una tre giorni, delle eccellenze del nostro territorio che saranno presenti in Piazza Grande e che daranno l'opportunità ai cittadini, ai consumatori, ai turisti che transiteranno per Arezzo di vedere già qualcosa di straordinario, perché questa piazza è stata addobbata in modo veramente straordinario dal Comune e dalle altre associazioni che stanno organizzando eventi nel periodo natalizio, ma noi vogliamo recitare la nostra parte facendo vedere proprio uno spaccato del mondo agricolo all'interno della città e lo vogliamo fare mettendo a disposizione sia per cesti sia per il pranzo di Natale qualcosa da trovare sotto l'albero di prodotti locali di un vero Made in Italy.